Dalla gita in barca alla gara di Burraco, dal cinema all'aperto fino alla visita guidata nella città di Pergola. E' giunta la 32esima edizione, questa calda terza età organizzata dal comune di Fano in collaborazione con la Proloco, i 15 circoli ricreativi della città e le tre aree ortive. Come annunciato dall'assessore al welfare Dimitri Tinti, l'amministrazione finanzia il progetto con 18.000 euro e intende garantirne la continuità fino al 2024. Il primo appuntamento è previsto per giovedì 7 luglio alla cooperativa Tre Ponti, dove verrà presentato il programma che intratterrà 1.000 over 65 con 12 iniziative fino al 1 settembre. Sono già 140 le adesioni per la serata di domani. Per partecipare alle prossime iniziative, ad un costo che varia dai 5 ai 20 euro, sarà necessario contattare Giorgio Falcioni o Sauro Berluti. Assessore, un progetto che si amplia e si rinnova? Il progetto è sempre di promozione della longevità attiva, si chiama Old But Gold, cioè anziano vale oro, quindi il nome è già significativo. Gli altri anni era solo su Fano, adesso parte tutte le varie iniziative, attività, laboratori, scambi culturali, percorsi anche di scoperta enogastronomica su Fano, dal 7 luglio alla prima serata, poi per tutta l'estate e poi da settembre, una volta che il Comitato dei Sindaci dell'Ambito l'avrà valutato e approvato, davvero questo progetto si amplia su tutto il territorio dell'Ambito Sociale 6, coinvolgendo anche quelle associazioni che hanno partecipato al tavolo per la costruzione del piano sociale e che sono appunto presenti negli altri comuni. È la dimostrazione che questo progetto si vuole aprire al territorio, così come i circoli e gli spazi dedicati agli anziani debbono sempre di più aprirsi agli altri, alla comunità e quindi essere vissuti anche da altre fasce di età, e sempre di più collaborare tra loro. Ecco, questi sono i due elementi che secondo me caratterizzano questo progetto. E quindi, ecco, sempre per dimostrare che la nostra comunità, non solo quella di Fano, ma di tutto il territorio dell'Ambito, davvero è una comunità solidale che vuole sentirsi parte di un territorio.